Ben tornati amici di Radio News 24 on Air, nuove interviste, nuove storie, io sono Benirunca e quest'oggi cari amici vi porteremo a Puerto della Cruz, a Tenerife, un territorio straordinario dove c'è per noi Massimo De Gregorio, Master Trader in strategie di investimenti. Benvenuto su On Air Massimo. Grazie e un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Bene, la prima cosa che mi viene da chiederle è ma cosa ci fa a Tenerife? Beh, mi immaginavo una domanda del genere e devo dire che ho l'idea di vivere un'avventura e devo dire che trasferirsi con tutta la famiglia all'estero di fatto è stata una bella sfida. Il lavoro che facevo e che faccio mi permetteva sostanzialmente di non avere un posto fisico e quindi questa avventura poi si è potuta realmente trasformare in realtà. Bene, hashtag trading Tenerife e adesso ci deve spiegare cos'è il trading, signor Massimo. Il trading di per sé è un'attività di investimento finanziario e devo dire che è affascinante trasmettere, semplificare, tradurre un po' il linguaggio spesso considerato astruso dei mercati finanziari. L'idea di poter trasmettere competenza e consapevolezza secondo me è poco come vedere crescere un bambino. Hashtag Insider Academy, parliamo adesso dei corsi. Nel mondo dell'investimento si tende un po' a cercare con la bacchetta magica di azzeccare la direzione dei mercati. Credo che la Apple crescerà perché eccetera eccetera. Viceversa l'ambiente di investimento che abbiamo scelto sia per investire personalmente che per insegnare le persone a farlo è quello delle stagionalità di alcune materie prime. L'idea che esistano dei cicli produttivi regolamentati proprio dalle stagioni, la semina, la raccolta, il caldo, il freddo, è ciò che determina andamenti, determinate tendenze nei prezzi e che si ripetono tutti gli anni, sempre nello stesso periodo. E questo fornisce una base sulla quale costruire proprio la statistica dei dati che è fortissima e che aiuta poi a mantenere un corretto piano di money management, di gestione del rischio, di ricerca delle opportunità. Ecco, questo è un po' quello che facciamo. E lo facciamo accompagnando le persone in un periodo di almeno quattro mesi dove insomma gli si fa fare tutti questi passi un po' alla volta per acquisire competenze e sicurezza. Spero di aver sintetizzato. Assolutamente, chiarissimo. Come fare per seguire i corsi e i percorsi dell'Insider Academy? Beh, noi partiamo da un presupposto importante e cioè l'attività di investitore è un'attività nella quale in qualche modo uno deve anche avere certe caratteristiche. Quindi io parto sempre da fare delle chiacchierate con i candidati studenti in modo da definire quelli che sono gli obiettivi, le capacità, le potenzialità e da lì poi si parte proprio con l'iscrizione, si parte con una preformazione di un mese e poi il percorso che è un percorso trimestrale. Quindi basta in qualche modo anche collegarsi con il nostro sito www.insideracademy.it e all'interno del quale ci sono tutte le informazioni per capire che cosa facciamo e anche come partecipare ai corsi. Bene, hashtag investimenti finanziari e questo è l'hashtag finale che lanciamo da on-air a questo strumento unico di condivisione. Invitiamo lei, dottor De Gregorio, a condividere poi questa intervista sui suoi contatti social così da diffondere ancora di più questo messaggio e far conoscere ancora di più l'Insider Academy. Bene, siamo a Puerto della Cruz e mi spiace lasciare un posto così bello, ce ne faremo una ragione, quest'oggi abbiamo parlato di investimenti finanziari grazie al dottor Massimo De Gregorio, Master Trader in strategie di investimenti. Grazie per essere stato qui con noi quest'oggi su On Air. Grazie a noi di Radio 24, grazie.